Musica Maurizio Boglio Sistemeire alla Fiera MEF Buongiorno Maurizio Buongiorno a voi Come si trova qui? Beh qua, cosa dire? E' bellissimo qua Siamo a Firenze, siamo in Italia Arte, moda, è stupendo Ed elettricità? Ed elettricità Va bene, senta, che cosa proponete al pubblico fiorentino? Ma dico una cosa sbagliata perché non è solo fiorentino, insomma, di tutta Italia Esattamente Sì, noi abbiamo due proposte in questa mostra MEF Una è una proposta dedicata a quelle che sono le nostre soluzioni in ambito industriale Soprattutto in Toscana dove collaboriamo con un'agenzia storica per noi, la SB di Lorenzo Santucci Abbiamo fatto un lavoro enorme di formazione, di cultura E vantiamo diversi impianti nelle strutture industriali In Toscana ogni provincia ha il suo tessuto industriale Vuoi la cartiera, vuoi le concerie, la pelletteria, vuoi la moda E in ogni ambito noi siamo riusciti a risolvere delle problematiche Offrendo delle soluzioni che spesso esulano un po' dal classico impianto di aspirapolvere Che viene utilizzato in ambito domestico Quindi è un buon terreno di semi nella Toscana per voi? Assolutamente sì E poi invece, me l'ha raccontato prima, ma adesso lo deve raccontare ai telespettatori di mercato totale C'è una proposta un po' commerciale ma anche ludica Sì, sì, perché fra due mesi circa avremo delle novità interessanti Che coinvolgeranno i nostri interlocutori elettricisti e installatori Sono delle attività di co-marketing e non solo E questi due mesi noi li stiamo sfruttando per un'attività promozionale È un'attività promozionale che coinvolge l'installatore nell'acquisto di un impianto Sostanzialmente E con l'acquisto di questo impianto partecipa a un evento motoristico Nei circuiti più importanti d'Italia A scelta tra Monza, Imola, Vallelunga, Mugello in questo caso E in quella giornata gli installatori si divertiranno Perché? E che faranno? Oltre ad ascoltarci una mezz'ora Questo è doveroso? Doveroso dove noi appunto daremo queste novità Ma non dico altro sulle novità di Sistemair Ci sarà una mattina di formazione motoristica sulla guida veloce Dopodiché gli installatori saliranno su supercar da 600 cavalli Lamborghini, Porsche, Ferrari Abbiamo una scoderea di professionisti che ci portano 8 auto, 8 supercar Saliranno e insieme al pilota daranno il meglio di sé Quindi non guidano loro? No, no, guidano loro Ah, guidano loro? Assolutamente Guidano loro Infatti tutta la formazione che c'è è proprio atta alla guida dopo ad alta velocità Mi fa paura solo pensarci Meglio parlare dei prodotti di Sistemair che mi sembrano più tranquillizzanti? Sì, beh insomma noi abbiamo un catalogo molto ampio E in Toscana, poi parliamo della Toscana ma oggi parlare di MEF non è più Toscana Noi abbiamo fatto tanto e abbiamo tanti clienti che ci riconoscono a distanza di anni Che hanno realizzato i primi impianti negli anni 90 E da lì abbiamo fatto tanta strada Però è solo per noi uno start up Oggi stiamo lavorando molto in azienda dal punto di vista del marketing Per essere vicini al mercato Per evidenziare quelli che sono i vantaggi dell'impianto Che spesso non sono valorizzati E stiamo facendo attività proprio di lancio del sistema Addirittura facciamo un magazine bimestrale La prima uscita è... Lo so, ha avuto un grosso successo, l'abbiamo anche scritto già su Mercato Totale Questo magazine bimestrale ci permette di raggiungere i nostri installatori Dando delle informazioni di noi, dei nostri prodotti Ma anche un po' del territorio dove esiste l'azienda, dove c'è l'azienda Per poi finire con un gioco, un cruciverbone Noi lo chiamiamo... Che secondo me è tendente a voi È tendente a noi L'installatore gioca con noi, si diverte, va sul nostro sito, dà la soluzione finale E a fine anno, per chi ci segue, dandoci queste soluzioni Dando testimonianza di averci seguito sui vari magazine A fine anno Natale faremo un omaggio gratuito Quindi seguire il sistema è utile Ma qui a Firenze è anche l'occasione per dare una rinfrescata e una ripulita Sì, assolutamente A Firenze noi ci veniamo sempre volentieri Perché abbiamo un rapporto con la distribuzione Con la MEF, con l'agenzia Che va oltre al lavoro Benissimo, grazie, buon lavoro A voi, grazie a voi Ciao 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 Ciao